Wow 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 caro amico appassionato di gaming e di Hearthstone benvenuto ben rientrato qui sul canale di OnTrip Allora ragazzi intro copiata si avete ragione ma c'è un motivo Allora sto come pochi di voi insomma sapranno sto collaborando con un altro streamer di cui vi lascio il link in descrizione Che si chiama il Duca ed è successa una cosa abbastanza particolare Penso che probabilmente probabilità che capiti ancora una su un milione più o meno Cosa è successo? Che ho preso una partita della live stream di 4 ore che ha fatto e l'ho editata pronta per essere caricata Quando poi ho riferito al Duca che avevo fatto il video Lui mi ha detto ma non sarà mica ma non sarà mica la stessa partita che ho editato anch'io stamattina Però gli dico guarda non penso perché insomma è improbabile fa no per fa perché io ho fatto quello col mago Gli ho detto cazzo anch'io ho fatto quello col mago bene quindi ci siamo ritrovati con due video Completamente identici Quindi uno l'ha fatto lui uno l'ho fatto io va bene E quindi vi lascio questa partita su questo canale Visto che magari nel suo trovate la stessa medesima E vi dico anche magari di andare a dargli una visitina Così insomma se siete curiosi fate un salto anche là Vi lascio il link in descrizione E intanto noi andiamo a vederci questa partita di Arston Questa sarà la migliore espansione di sempre Avete capito comprate le buste Sarà la migliore espansione di sempre Solo quella Cioè tra l'altro solo la leggendaria è quella che è obbligatoria Ok C'è La leggendaria di Arston Eh La leggendaria di Arston Eh E questo è forte Questa Questa mi sembra forte Mi sembra forte Si è buggato Dai raga non è possibile E che va Quella grandissima Minchia questo fa cagare Ce ne sono di peggio Glug 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 Cioè Sbaglio o hanno abbassato il drop rate Bravo Sto già dissando Hanno abbassato il drop rate Signori Questa è la terza quindi E' la terza Zin zin zari E L'altra leggendaria del calciatore di demoni Che quello è il calciatore di demoni Ma se sentiamo Quindi ho entrambe le leggendarie dello sciamano Sciamano Una delle mie classi preferite Non è vero Grande sciamano Allora abbiamo trovato L'idra L'odonte E Kotori L'amalucente La bizzar chiama Le buste sono da riaprire tutte Oh Figlio della Grandissimo Figlio della grandissima Epica E il fascello di Asha Zara Una delle carte più forti Leggendaria di Hearthstone Sarà un po' come Il predicatore misterioso Eh? Inciderà Inciderà No La Gaia Tecnotonica Questa Si prende dei beveroni Per tonificarsi Grazie mille per i 21 E insomma Non so che cazzo gioca Ma giocherà Agri Tutti giocano Agri Su sto cazzo di gioco Quindi buttiamo dentro tutto Cerchiamo una signora delle pozioni Chiunque Ok però 9 10 10 Ok Ok però Grazie Grazie Punto Ufficiale Espansione più bella 2022 Oh speriamo che uno tranquillo Sì Ma ancora 9 Raga raga Ma qualche carta piccola L'abbiamo messa dentro Porco diaz Non giocare niente Che sto A merda Bravo Bravissimo Sei il mio idolo Questa posso scambiare Non la scambiamo Scambiamo Beh Pizzica 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 Ma questo è handlock Proprio Grelby Che Vuole pescare Grelby Uh questo è forte Facciamolo dai Uh Uh che Pesco solo magia 10 Gesù Bambino Ma questo che gioca Handlock Questa che sta facendo Raga Ah ma anche lui è control Bene Allora ci divertiamo Oh raga Porco diaz Aiuto Basta Basta Ai cazzo Finiscila Eeeh Oh Si gioca Si gioca Adesso Cioè è più forte Del Se metti big Ah riduce Vuole fare una combo Questo Faccio No lì Però no Forse faccia Faccio E siamo sempre qua Porco diaz Porco diaz Basta Porco diaz Ma è credibile Raga Cioè raga Ho messo Delle carte Che più basse Di 9 10 Porco demone L'ho già rimesso Dentro tre volte Sto qua con scambio E yoga Non c'è Ma questo è proprio Control Fuck Ok Vediamo che arriva 10 Eeeh E boom Bum 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 E drop Ho lasciato dentro Una barriera di ghiaccio OTK col gufo Oh mio dio Adesso però Faccio io OTK Vabbè ma se ancora Gioca i mazzi vecchi Questo si deve fare Una vita Raga Io solo si faccio Una vita Il tesoro Della rechina È proibito Della rechina Prima, la prima magia l'ho già tirata Porco dia, che ci penso Per quello che me ne asconta Dai, raga Ok E quindi Fermi 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 Uuuuh Ma cosa? Grelby Sono un pro Cristo Vento tanto danni Distrutto Questo non l'ha più visto Niente Continua con le tue bombette di merda Che noi ci divertiamo Vedi che foto che gli ho fatto E clic su carta coda Questo è il pro dei pro stream È il nuovo mazzo Super pro, raga Cosa dovete fare? Mazzo super pro così Mi sa che arrivano i cosi, raga I giochi abbiano inizio With the jig Abbiano inestis Inestis Non lo so Forse uno deve tenerlo Teniamo Teniamo questo Al massimo Al massimo si scambia Via, via, subito Sopravvivenza Uuuuh Magica Magico Cozzo si Questo ci hara malissimo Vabbè ma Ci abbiamo provato Adesso comincia Ciao, ciao, ciao Soli, soli, raga Solita Merda Di sempre Cristo Ma di cosa? Questo, questo è forte Questo si sconta tutto Anzi, da più uno più uno Da più uno più uno E forse E' peggio scontare Devo dire Cioè, avete capito? Non sono capito Tutto a zero gioca Bene, mettiamo lui Allora Questo è forte Questo secondo me è forte In un big In big è fortissima Sta roba Mettiamo lui 4-5 Questa immarcazione era inaspondante Stiamo lì Parapapapà Questa è roba Ha già rotto il calcio Se tratta con questo Possiamo togliere tutto con questo Praticamente E va bene Nice Molto nice Questa giocata La giocata di Dio Ha fatto Resettato Vai Si riparte Abbiamo a disposizione Anche lei adesso Questo aspettiamo Di avere Qualcosa di enorme In mano Vai tranquillo Tormenta Tormenta Stiamo lì Teniamo 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 Questo è forte Questo cosa fa Pescala Ok Vi fa il rimbenimento E questo è un continuo assalto Raga Se ne esce Calicos Calicos Ma abbiamo trovato cose grosse Però Finito Penso che arrivano le magie Più Questa Europa Adesso abbiamo lui Ci vorrebbe anche il gufo No Quello là Il gufo pazzo E succedono cose Io spero che butta giù Perché poi Cerco di Tirare sta roba Ok Bene che fa sta giocata Ma mi piace un tot Che fa sta roba Che non l'hai tradato Ecco è arrivato Uh sta roba Qua mi fa un disastro Raga Uh Dov'è il gufo Dov'è il gufo Voglio il gufo Ok Si va avanti Con le sue Questa è tra po' lenta Cazzo Se lo metto giù Questo non può rimuoverlo Suppongo Quindi è buono Per noi raga Questa è due carte Penso che ho usato questo Si Ci c'è il pappagallo Adesso raga Si Pappagallo Qua facciamo danni Non l'ha peccato Calegos Dova tankare un attimo Non sto tankando Nel cazzo Tanca Tanca Atta Calegos Tanca Porco Dio No ma che È ancora lì Calegos È ancora lì Che resiste Grande Calegos Allora Eh Non abbiamo un cazzo Raga Dobbiamo forza andare A pescarcela Non so cosa Però Purtroppo è così Non abbiamo trovato Le magie grosse Che volevamo Dobbiamo fare forza Questa poi Draghi con Town Ce ne sono Eccolo qua E anche Lui Posso dolevare Lui Ok Ok Siamo ancora vivi Molto bene Molto nice Non vedo come posso Levarmi lui Con il 4-8 davanti Dai cazzo Raga Stiamo comandando In questo momento Col Mac Mage Non so come possa Rimuovere questa roba Velocemente Intendo Bene Va bene Questo che cazzo fa Goal impiratato Assalto Il ruolo del vento Che schifo Fai proprio schifo Sei veramente Un cesso a pedali Cazzo Minchia Però c'ha troppi Cazzo trucchi Sto cazzo di Eh Raga Avete notato Troppi trucchi Dai Dammi Pappagallo 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 si Buona che questa C'ha Coso Però potrei anche pescare Per far così Addirittura Cazzo di cane Vediamo che cazzo Succede E rido tantissimo Perché io voglio ridere Tantissimo Lo facciamo raga O pesco Possiamo questo Possiamo peschiamo Vediamo anche questa Allora dunque Questi che cazzo facevano Nessuno Non hai ancora visto niente Full board Inondazione Vabbè fa niente Non c'è lo spazio in board Peccato Va bene Va bene Raga Ce la facciamo Cristo Come fa le parole Questa roba Abbiamo il 12 12 Incredibile Minchia Se ammazzo il Mac Major Con sto mazzo Guarda Vado a casa sua E gli piscio Sul Sul campanello Porco due Ma che schifo Che schifo Quanti danni abbiamo Raga Dammi la pyro 20 Non c'è poco Dammi la pyro Dammi la pyro Devi morire Merda Devi morire Devi morire Sì cazzo raga Col mio mazzo di merda Non andare a copiare su internet Pezzo di strongzone Succhialo Ma proprio che goduria Cominciano a giocare i loro mazzi di merda Già al day 1 Ma prova una cosa diversa Una volta Cerca di Fai qualcosa Figa Ti ho fatto vedere la strada Io caro Nigel Posso indicarti la soglia Ma sei tu quello che la deve attraversare Sei tu quello che la deve attraversare Che Micchia quanti livelli Raga Perché il mazzo viene premiato Quanti cazzo che sta facendo Sono perché Grazie a tutti 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 Grazie a tutti